visto ieri non dico con calma però insomma in maniera piuttosto dettagliata abbiamo capito che questo campionato qui se mai ce ne fosse bisogno è durissima per tutti si dà per scontato delle volte che sono delle squadre con poco blasone io avevo parlato non a caso del cittadella che riporto una squadra da primi cinque posti non è casuale che vada a vincere in un campo difficilissimo come quello di empoli quindi noi dobbiamo capire che questo campionato qua è un campionato molto equilibrato molto duro ogni partita è difficile e non guardiamo in casa d'altri dobbiamo guardare in casa nostra già in casa nostra abbiamo sempre durante le sedute d'allenamento delle difficoltà come le hanno tutti dobbiamo superare prima le nostre quindi migliorare quindi recuperare qualche giocatore e sapere che la strada è molto dura molto lunga mancano 36 gare sono tantissime tantissime e quindi noi domani sera credo che non sia giusto sempre dare a questo gruppo un test è prova del 9 è la prova di maturità è una partita importante secondo me come è stata quella col perusa come è stata quella con il foggia e col brescia con l'empoli e compagnia cioè ogni partita deve essere interpretata da noi come deve come come dovrebbe essere una finale questa è la verità ogni partita da tre punti e più ne fai più arrivi all'obiettivo che abbiamo voglia di raggiungere io sicuramente è stato un giocatore finora importantissimo come come gli altri chiaramente ha un dono della natura di essere un giocatore imprevedibile qualche volta per noi spesso per gli avversari quindi giocatore che rompe anche degli equilibri rompe anche delle linee con le sue giocate giocatori per noi troppo importante inutile che stiamo qua a dire le bugie proveremo recuperarlo con tutte le nostre forze domani mattina abbiamo un'altra seduta e chiaramente domani a luna sappiamo se igor può scendere in campo oppure no se c'è un margine di rischio superiore allo 0 per cento di infortuni è chiaro che non piuttosto lo faccio far saltare una partita piuttosto che farlo saltare due mesi come potete vedere si accumulano anche grandi carichi di lavoro su quelli che sono i giocatori quando vengono sostituiti uno si chiede perché questo è un perché che certa gente con i carichi di lavoro se lo si vogliamo avere coronato spesso e volentieri sappiamo che dobbiamo gestirlo con un bilancino particolare vedete anche i carichi di lavoro con i nazionali all'esame è uno di quelli che ne ha fatte le spese e quindi in questo momento qua dobbiamo le carci le ferite ma essere in grado già di avere a disposizione dei punti di sutura per rattoppare e ripartire con lo stesso tipo di entusiasmo e la stessa lo stesso tipo di convinzione di essere un gruppo comunque che lotta sempre con il cento per cento delle proprie possibilità vi dico la verità i centrocampisti stanno facendo tutti molto bene da amato a acciocio a rado e eddi tutti e quattro stanno facendo molto bene e sono contentissimo di come stanno lavorando è normale che sono giocatori che io rinuncerei non rinuncerei nessuno dei quattro in questo momento dopo verranno fatte delle scelte anche su questi tipi di giocatori muranski è un giocatore secondo me molto moderno che in grado di ricoprire più ruoli non è ancora muranski che voglio io perché secondo me da un potenziale importante ancora non del tutto espresso però sono felicissimo di due di tutti i ragazzi che giocano in mezzo al campo domani mi aspetto una prova significativa sotto l'aspetto della continuità di rendimento da parte di tutti perché non basta giocare solo bene noi col per usa non abbiamo fatto una partita pulita dal punto di vista tecnico estetico però abbiamo fatto una partita con con grandi attributi con grande volontà con grande compattezza questa dobbiamo continuare ad averla fino all'ultima giornata di campionato la pro vercelli nelle statistiche che noi abbiamo ricavato tramite vincenzo varica che il nostro diciamo messa analisi parlo anche inglese e abbiamo visto che la pro vercelli e la quarta squadra di questo campionato che ha il possesso palla uno dice no ma sai il possesso palla non c'entra no c'entra perché finché hai la palla di sicuro difficilmente quasi mai ce l'hai tu quindi è la quarta squadra per possesso hanno un giocatore vives che ha delle qualità eccellenti di palleggiatore di verticalizzatore è una squadra che vive su questa spina dorsale molto interessante costruita molto bene secondo me che hanno legati bergamelli due centrali difensivi vives due mezze ali uno è molto forte si chiama firenze una mezza alla sinistra no la pro vercelli non è una squadra che viene qua sicuramente a difendersi e mettersi dietro è un allenatore che è propositivo in lega prova ha fatto vedere delle cose molto importanti sul piano del gioco sul piano dell'organizzazione della propositività quindi mi aspetta una pro vercelli che viene a giocarsi la partita e quindi dovremmo fare una partita super per per tenere la palla noi come avevo detto prima il palermo è nono per quanto riguarda il possesso quindi mi aspetta una pro vercelli sicuramente propositiva per quanto riguarda il discorso di tre i coschi tre i coschi l'ho sempre detto dal 12 di luglio che è un giocatore che ha delle potenzialità inaudite non mi aspetto proprio di orgoglio da parte di nessuno mi aspetto che tutti quanti abbiano continuità di rendimento che è diverso non possiamo essere altalenanti dobbiamo essere continuativi ale che è un giocatore che ha delle potenzialità io stravedo per lui per quello che può essere può essere un campione evidentemente se non lo è stato finora qualcosina deve migliorare lui come come ragazzo ci sta provando però non mi aspetto prove di orgoglio le prove di orgoglio secondo me non dovrebbero esistere dovrebbero esserci delle prove straordinarie sempre a ogni partita non sono tutti quanti diciamo infortuni muscolari o comunque identici nel senso che all'esame sicuramente è stato un sovraccarico di lavoro e soprattutto di viaggi e di clima io l'ho già detto penso una quindicina di giorni fa per quanto riguarda altri giocatori vedi coronato coronato viene da un problema anche di ma di denti di masticazione a livello tendinio c'è un dei differenze livello tendinio a livello muscolare diciamo che dall'inizio ad oggi abbiamo avuto qualche problema sì però sono problemi secondo il mio punto di vista di normale amministrazione abbiamo avuto solo all'esame secondo mio punto di vista che ha avuto qualcosa di pesante da digerire parte ingegneri che un trauma chiaramente diverso diciamo che è solo l'esame che ha avuto qualcosa di importante anche di continuativo diciamo che anche sul discorso di coronato finora non ha saltato neanche la gara neanche un allenamento però in questo momento credo che sia arrivato anche per lui una sorta di affaticamento perché ha sempre giocato lui in questo in queste partite consecutive ha sempre giocato e come gioca lui a forza di scatti di cambi di direzione è normale che va a sollecitare qualcosa a livello tendinio muscolare quindi è normale anche che come potete vedere anche grandi livelli difficilmente un giocatore gioca ogni quattro cinque giorni consecutivamente per per un paio di mesi normale che con il discorso delle nazionali che si riapre di nuovo avere qualche infortunio in più diventa un pochino più complicato rispetto a prima però ripeto si torna sempre al solito discorso le partite delle nazionali portano via almeno due partite almeno due partite sotto tutti i punti di vista quindi sappiamo che per noi è un percorso in salita però sappiamo anche che questa è la strada che dobbiamo intraprendere e quindi bisogna avere sempre quelle che si chiamano sfide di gruppo verso tutte queste difficoltà rolando credo che credo io non sono medico però presumo che tra una quindicina di giorni sia a disposizione e per me struna ha fatto una grandissima partita contro il perugia perché il perugia è una squadra che gioca con doppia punta in apertura ci vuole un passo molto importante per andare a prendere queste velocità e un giocatore muscolare che ha una corsa e una progressione maggiore rispetto a bellusci e mi servivano dei giocatori che avessero un passo molto diverso anche la scelta di tiago cione per dire non è solo stata una scelta tecnica come qualcuno può aver capito ma anche una scelta dettata da questa somma di grandi partite che fanno e quindi ci ritroviamo cione con giocatore integro che domani gioca e magari invece qualche giocatore avrebbe pagato dazio da questa partita